Ciao a tutti ragazzi da Lissi96 e bentornati in questo nuovo video di Tom's Craft Allora, oggi andremo a casa mia Benissimo Ho fatto 4 Liquid Tesseract mentre non registravo Questi 4 Tesseract, se finisce la campana di suonare, mi serviranno per un paio di cose Prima di tutto, mi serviranno per portare la lava qui perché Ho di sotto questa cosa, ci metteremo qui un Tesseract, ok Con scritto lava Faremo device inactive, facciamo 2, ok Quindi la lava sarà 2 Diciamo che questo deve fare Receive Only, ok Quindi riceverà soltanto la lava Qui nel frattempo abbiamo finito un po' di acqua Quindi in teoria facciamo così Andiamo qui, questo è un Liquid Accusa Cumulator Ci mettiamo sopra un Liquid Tesseract Impostiamo su Acqua, ok Facciamo device inactive, facciamo 3 E facciamo Send Only, ok Poi mettiamo questo qui E gli diciamo Acqua Receive Only E andiamo Quindi in teoria adesso deve riempirsi d'acqua In Twitter perché non so precisamente dove va messo Oh Lagheggia Ok ragazzi arrivo Ok ragazzi rieccomi Allora sembra che ha tipo crashato un attimo il server E non prende Quindi in teoria mi sa che qui non, da qui non entra Ma se noi proviamo tipo a metterlo da questo lato invece No, da questo lato non penso Più che altro dovrebbe essere da questo Per forza Proviamo un attimo a spaccare qua Mettiamoci questo Allora in teoria dovremmo spaccare qui Bene Mettiamoci questo E diciamo Acqua Ehm Send Only Vediamo Si sembra che stia Ah no Non Send Only Receive Only Ok no Deve stare in forza da qui Va bene Mi va benissimo Questo almeno abbiamo Tutto regolabile E qui Questo la leviamo E ci mettiamo questo Quindi Facciamo così Opla Ecco qui si è unito E qui anche Benissimo La leva la prendiamo La mettiamo Eh Dove la mettiamo Siamo qui va Dovrebbe funzionare in ogni caso Ottimo Allora adesso abbiamo un altro liquid De tesseract Che andremo subito a posizionare Quindi in teoria adesso Questa la possiamo levare Qui dovrebbe avere acqua infinita Benissimo Quindi ci mettiamo anche questo E da solito potevo anche levarlo Quello Vabbè Lo leveremo più avanti Non è un problema Qui quindi avremo acqua infinita Ottimo Ohi Laggeggia Benissimo Allora Quindi andiamo nel nether Solo che adesso non so come andarci Dovrei avere dei libri qui Vediamo Nether nether Abbiamo due libri di nether Quindi cerchiamone uno Qualsiasi Vediamo Ok Ecco dove volevo arrivare Va benissimo Qui Quindi adesso dobbiamo Recuperare Quei motori Questa Pump Ottimo Benissimo E queste leve Sì In teoria mi potrebbero servire In teoria potrei anche scendere Ok adesso troviamo quindi Un bel posticino Dove metterci il nostro Il nostro bello getto Allora Qui sembra abbastanza carino Servirà forse un po' di Questa roba Ottimo Quanti ne abbiamo Quattordici Sì va benissimo Ok Allora Mettiamolo Qua Visto che ce ne è un bel po' Ok Quindi in teoria potremmo fare così Bene 8 7 6 2 1 E va benissimo Ottimo Poi ci mettiamo La nostra bella Pump Qua Quindi qua sotto Spacchiamo Benissimo Ci mettiamo i nostri Redstone Così qua 1 2 E 3 E sopra ci mettiamo Un Tetheract liquid Ok Mettiamo sempre Lava E gli diciamo Receive No Send only Ok Benissimo Quindi in teoria adesso Dovrebbe scendere Anzi no Dovrebbe dargli più energia Quindi Mettiamo questo E questo Ottimo Vediamo Oh Ottimo Stanno partendo Quindi adesso dovrebbe Scendere Vediamo Sta scendendo abbastanza velocemente E dovremmo ricevere della lava Dentro al nostro Piccolo tank Finalmente Questa è il neda Dobbiamo prenderci l'altro libro Quello del terreno di trasporto Ok Ottimo Andiamo a casa Benissimo E allora Come vedete Ho levato anche i laser Perché Stavo aggiustando un attimo la casa Così ho detto Facciamo un attimo pulizia E aggiustiamo tutto Quindi adesso Se qui chiudiamo In teoria dovrebbe fermarsi E qui invece dovrebbe salire Ah qui giusto Abbiamo messo Receive only Sì è giusto Dobbiamo aspettare che la lava Che arrivi sotto Quindi 382 Ricordateci che dopo Ricordatemi che dopo Andrò a vedere E qui Dobbiamo rifarci un altro tank Quindi oggi andremo a fare Un bel tank Un altro tank Scusate un altro kart Ma in questo caso Voglio un kart abbastanza potente Quindi Iniziamo con farci Il solito La solita base del kart Quindi Ci serviranno Dell'iron Degli stecchini Uno stack di questo Una nostra bella piccola Minimum stone Quindi ci facciamo Due di questi Ehm No mi sa che era il contrario Prova darsi Sì era così Eccoli qui Due di questi Ok Ironware Messe qui Qui sotto Usate E fatte così poi Ottimo Abbiamo il nostro Standard Hull Bene Adesso andiamo dietro Dobbiamo cercare dei moduli Mi serviranno Di tutto Questo qui Large Idratator Quindi ho bisogno di Iron Large container Large container si fanno Con il small container Ah tutto glass Semplice Quindi mi serviranno Questi Ehm Mi serviranno due secchi Ce l'abbiamo già Facciamo un po' di vetri Facciamone va Un po' 32 vanno benissimo Quindi facciamo così Così Benissimo E così Mi sa che era così Vediamo Ehm Idratator E l'argi Idratator Ok Ah ok Al contrario Ops Benissimo Facciamo quindi così E due di questi Mi serviranno però Altri Piccoli Secchielli Che noi dovremmo avere In teoria qui dentro Abbiamo sei Ah quattro Ok ottimo Quindi Quattro mi serviranno Altri due Messi così Questi quattro Benissimo Ok Abbiamo lo small Idratator Poi Small Idratator Di qui Questi qui E Siamo se questi vanno qua E qua Sempre Solita roba Ok ecco qui Large container Mi serviranno però Due di large Giusto Quindi mi servono Altri Due Altri Altri secchi Tipo altri due Quindi due 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 Benissimo Abbiamo quattro secchi Due 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 Ok Small container Messi così Come prima Ecco qui Large Messi poi così E con del Semplice iron Ok Beh Large container Large container Ah ok Ops Ecco qui Large water container Quindi Stiamo messi bene Solo che dobbiamo lasciare un po' di roba Quindi tipo Questa 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 E il vetro Che non ci servirà mai più Benissimo Poi Andiamo qui Abbiamo un bel po' di shard Dopo questo Dopo questo Questa servirà per dare idratazione Alle nostre colture Quindi non abbiamo bisogno più di metterci La nostra L'acqua attorno Insomma Abbiamo bisogno del fertilizer Quindi Fertilizzante Dove era Dove era Tipo Da questo lato Mi sa No Non lo trovo Benissimo Quindi deve essere Di forza di qui Wooden cutting Well Large water container No mi sembra giusto Allora Mi sembra comunque il solar Sempre Basic solar engine Che sappiamo già fare In teoria Si bisogna fare il simple Beh Solita roba Dove era Il Control system Ah Break handle Ah no Questo è qui Ah giusto Il farmer Mi serve anche Allora Simple si fa Sempre così Ok Tre diamanti Va bene Tanto adesso Abbiamo un bel po' di diamanti Quindi abbiamo bisogno di Tipo Quattro di queste Otto in totale Poi Un po' di ferro E giusto Due questi E due diamanti No tre diamanti Ok Facciamoci anche Il farmer lì Questi due Ok Due simple PCB Poi Tre diamanti Uno di questo E poi cos'altro Ci mettevo dentro Ah Un oro Quindi Facciamoci Un oro A modo nostro Ottio Uno di questo Questi No Al contrario Due di questi E questi qui Ok Eccolo qui Farmer Quindi abbiamo due oggetti Già E insieme a quella cosa Davvero che Non riesco a ricordarmi Come si chiama Allora Colorizer Basic Beh Facciamoci il solar engine Nel frattempo Quindi Abbiamo un po' di Glowstone Sì Sì Speriamo che Ci basti Ce ne servono Giusto Due Uno Quello basic Mi va benissimo Tanto comunque Non è che faremo tanto Poi PCB anche Giusto Basic Sì Ok Bisogna anche Di un pistone Quindi Ricopriamo un po' Di Questa cosa I pistoni Mi ricordo Che li avevamo qui dentro Infatti Ce li abbiamo qui dentro Ok Facciamoci quindi Un Simple PCB Si vede l'oro Ok Benissimo Ehm Abbiamo detto Abbiamo detto Ok Simple PCB Più Uno Due Un Due Tre E Un pistone sotto Ecco qui Basic Coal Abbiamo Abbiamo un altro Piccolo oggetto E ci aveva qualcosa Che non ricordo davvero Come si chiama Ah eccolo qui Fertilizer Proprio accanto E Ah Semplice Quindi Bohmille Leather Ok Prendiamo tre Leather Ehm Uno Due Tre Due Bottiglia Mi vanno benissimo Due Di Bohmille Andiamo a farci Un simple PCB I PCB Servono Precisamente Per tutto La La Steve Cart Allora Questo va sotto Giusto Si Uno Due Tre Uno Due E Dove sono le bottiglie Non le ho prese Le bottiglie Ah eccole Uno Due Ecco qui Abbiamo anche il fertilizer E questo altro ci può servire Allora abbiamo Un motore Abbiamo Abbiamo Un modular cost Attachment Attachment Ok Ehm Una chest Giusto Quindi Dobbiamo farci anche La chest Solo che non so Quale chest Può andare qui Quindi andiamo un attimo A montarlo Diamoci questo 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 E questo Quindi in teoria Ha soltanto la Back chest Sì 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 Soltanto la Back chest Quindi 13 minuti per montarla Quindi Chest Back Back Dovrebbe essere da questo lato No E tipo di qui Back Chest Ok Eccolo qui Front Top Dovrebbe esserci una Back Mi ricordo Possibile E così Non potremmo Far nulla Perché Chest Play Eh sì No Side Non può andare Giusto Vediamolo In teoria Avanti no Dietro No Beh Non so adesso Quale sia L'attachment Proviamo il front Va Proviamo col front Come si fa il front Abbiamo detto Chest Plan Chest Plan Ah Questo è Large Ah 3 4 large 4 normali Ok Quindi in teoria Andiamo qui Abbiamo questi qua Dobbiamo prenderne altri Quindi abbiamo del legno Giusto No Abbiamo lasciato Ottimo Quindi Facciamo così Facciamo così Oh Un bel po' Finalmente Allora Facciamo queste Qui 4 Ne servono Ottimo Ecco qui Abbiamo queste 4 large 1 2 3 4 Benissimo Ah Cavolo Mi servono prima Quei di ferro Vediamo Abbiamo quello di ferro Se ce l'abbiamo Una lock chest Ok Ottio Quindi facciamo 1 2 3 4 1 2 3 4 E una di questo Eccolo qui Front chest Vediamo se va bene front chest Perché adesso non so Se sia davanti o da dietro No ecco Farmer e coloro sono Nel stesso posto Quindi non possono essere montate Quindi in teoria dovrebbe esserci per forza Un'altra parte dove montare Front non può essere La top non penso Perché Ha già il pannello All'interno Quindi no La side nemmeno E qual è? Se è un modulo Con una chest Vediamo Ah Ah in teoria potremmo mettere Internal storage Eccolo Questo mi serviva Ok Ecco l'ho trovato L'ho trovato Quindi Se è uno di questo Eh si vabbè Prendiamoli tutti va? Ok Internal Ho capito come si fa Internal In teoria non dovrebbe dare problemi E' piccolo come Come spazio Ma non ci interessa tanto Ok Internal storage Se non sbaglio però Ci dovrebbe essere anche L'extra internal storage Da quello che ho visto Prima Dov'erano i storage Tipo Tutututu Eccoli qui Extracting chest Non so cosa serve Esplicemente però Boh Andiamo così per adesso Direi che adesso Mi manca soltanto Un po' di carbonello Per farlo funzionare E potremmo già montare Il nostro bel macchinario Quindi railcraft Eh no Questo lo teniamo Mettiamo però queste cose dentro Ok Ottimo Questo e questo Benissimo Allora Oggi comunque Andremo comunque A vedere se la lava Sta arrivando Sperando Ok 400.000 Prima era 385 Come ricordate Vediamo se arriva adesso In teoria Dovrebbe salire Vediamo Non fare il cattivo Non fare il cattivo Sali Bravo Bello dai Ecco Un mille per ogni Ogni volta che arrivo In effetti è giusto Ok Quindi Dovremmo iniziare anche A farci l'altro kart E io direi di iniziare A preparare il tutto Così nel prossimo episodio Avremo già tutto pronto Qui nel frattempo Abbiamo bisogno di coal Giusto Per startare tutto Mettiamoci quindi Questa roba qui dentro E questa qui Se non sbaglio Anche il coal cock Dovrebbe andare bene Come carburante No Se non sbaglio Solo la lava O il carbone Vabbè Mettiamoci il carbone Normale a sto punto Benissimo Che bello I materiali che se ne vanno via Così velocemente Assembla Ok Sta andando Abbiamo 21 minuti Di tempo Dovremo aspettare Per creare tutto Il nostro cosa Allora nel frattempo Devo farci Altro ferro Ci serve Quindi In teoria Prendiamo altro ferro Prendiamo altri stick Che abbiamo qui Ok Ci servono Prendiamoli tutti Va che facciamo prima Ok Ci servono ben Due di queste rotelline Per fare un altro cart Opla Benissimo E ti ho detto che Per far funzionare Quel wood cutting Abbiamo bisogno almeno Di prendere un coal Però ragazzi Adesso non so Se il coal Va precisamente Alla Utilizzando anche Comunque Del legno Ci proveremo Vedremo cosa succede Allora abbiamo bisogno Due pistoni Comunque Abbastanza semplici da fare Due pistoni Una fornace Quindi Otto di Di cobblestone Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Ottimo E del ferro Quindi In teoria potremmo già Craftare Quello lì Quindi questo Mettiamoci questo Uno Due Eccolo qui Coal Engine Ottimo Poi Mi serve Wood cutting Wood cutting Costo un bel po' Eccolo qui Wood cutting Advanced PCB Quindi ci serve Altri due di questi Più un bel po' Di redstone E ferro sicuramente Quello che ci serve Comunque sempre Ok PCB No questi Vanno al lato Eh si vabbè Eccolo qui Advance Mi sono dei sapling I sapling Abbiamo detto Devo prendere quelli Questi No Si sono hook Ok Sei No Otto Me ne servono Benissimo Quindi Prendiamo questi otto E andiamo qui Ottimo Wood cutting core E Dopo questo core Dobbiamo fare Wood cutting Ok Qua si fa ciò Con diamante Ok E ferro Benissimo Mi servono Cinque diamanti Uno Due Tre Quattro Cinque Benissimo Quindi cinque E dieci di questi Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno di questo E questo qui Ottimo Wood cutting Tools Engine Quindi ci faremo Comunque anche Il solar Engine Potremmo farci No il compact Mi sa che è un po' Troppo potente Poi si fa Tipo in un modo assurdo E si Troppo complicato No perché il solar Facciamo il basic Quello che ho fatto all'altro Perché comunque Dovrebbe andare benissimo Queste No Facciamo questo qua Compatto Va Allora Ci serve sempre un pistone Giusto Si E E No la gloss Non ce l'abbiamo qui Ottimo Allora ci bisogna fare due di questi Due E due Ottimo Uno due Prima il PCB Sempre Sempre il PCB Vai da toro Che Non finisce mai No finisce Finisce Solo che Perché davvero Tantissimo Ok E un pistone Eccolo qui Basic Solar Engine Quindi ragazzi Direi che nel prossimo episodio Andremo a Mettere questo a posto Quindi in teoria Dovremmo avere di nuovo Funzionante la nostra bella farm Speriamo che Nessuno mi rubi ancora il coso Anche se dicono che Surreal non sia stato Sarà stato Sarà salito per un bug Allora probabilmente Va bene Surreal Comunque è stato tu Non in caso E quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio E ciao a tutti Da Udizia 96 E alla prossima Ciao